Le immagini che vedete raccontano la prima visita all'ASA, capitale del Tibet, del presidente cinese Xi Jinping da quando è a capo della Repubblica Popolare e segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. Il primo e ultimo leader cinese in carica a recarvisi era stato Jiang Yemin nel 1990, l'occasione, il settantesimo anniversario dell'invasione della regione da parte delle truppe comuniste, un evento celebrato a Pechino come pacifica liberazione. Nel filmato diffuso oggi, Xi, uscendo dall'aereo, è impegnato a salutare la folla che indossava costumi etnici e sventolava bandiere cinesi tra un tappeto rosso di benvenuto e i ballerini che si esibivano intorno a lui. Scene di accoglienza di benvenuto, nonostante secondo alcune fonti giornalistiche, Xi, durante la sua visita ha riaffermato il controllo di Pechino sulla regione, in cui rafforzamento militare e politiche di assimilazione etnica continuano a suscitare critiche da parte della comunità internazionale. Xi, durante la sua visita ha valutato la situazione ecologica e ambientale di alcuni fiumi e ha visitato il locale Museo dell'Urbanistica e altre aree per esaminare la pianificazione dello sviluppo urbano, la rivitalizzazione del rurale e la costruzione di parchi urbani. Tutte le regioni e le genti di tutte le etnie in Tibet marceranno verso una vita felice, ha promesso il Presidente. Grazie.